E ragazzi, come va? Io sono Fireniki E io sono Sefe, chiesto di chiama GTA 5 E oggi siamo qui con un video di GTA molto molto particolare Allora, è in compagnia di Espy e Luca Esatto Però allo stesso tempo non è in compagnia di Espy e Luca E' una cosa strana, stiamo sperimentando un format davvero particolare Abbiamo fatto un video, secondo me, davvero divertentissimo Penso che vi piacerà tantissimo È un esperimento un po' pazzo, ma secondo me funziona davvero tantissimo Quindi non vi spoileriamo nulla neanche di che cosa si tratta Guardatelo e fateci sapere nei commenti E ovviamente passate anche dal canale di Espy e Giochi in descrizione Ciao Fede Ciao Steph Ti ho portato qui per un motivo, ovviamente non siamo qui a casaccio Perché ti ho fatto la sorpresa più bella di tutta la tua vita Cioè penso che in tutta la tua vita non avrai mai una sorpresa più bella di così Farei una passeggiata insieme? No, no, quello vabbè era scontato Era scontato che è già un onore per te Insomma, non facciamo mai una passeggiata Però questa sorpresa lo supera Addirittura? Sì, sei curioso di vedere che cos'è? Sì Fede Vieni, seguimi Ok, ok, ok Ma no, no, però Fede camminiamo insieme ai vicini Dai, non mi lasciare Perché voglio camminare con te qua al sole carini Allora, camminare è una perdita di tempo Quindi muoviti Non è vero Fede Non sei in buona compagnia Posso dirti una cosa? Sì, dimmi Sei malissimo con i capelli verdi Lo so Fede Sai, sei davvero, davvero, davvero brutto Non è colpa mia, ok? Sì Guarda da quella parte Ok Mi hai regalato la spiaggia? Ovviamente no Allora, guarda dove sto guardando io Cosa vedi? Ok Quella parchettina lì piccola piccola Carinissima Un gommone, tipo Stef, smettila, dai Bando alle ciance Ho comprato uno yacht Fede Sei felice? No Sei felice? Perché i soldi che abbiamo messo da parte Erano per una casa Non per uno yacht Fede E anche come su Gmod Ho preso tutti i soldi dal tuo conto in banca Quindi ovviamente Lavoro da 40 anni per quella casa Dai tu compri uno yacht Eh, io ho comprato uno yacht E sarà la tua nuova casa Se vuoi Ma se voglio Altrimenti Andiamo, lo vuoi vedere? Altrimenti sotto quel ponte Eccomi Fer Dai parcheggio bene sali Guarda c'è la scritta qui Arrivo Opla Ok, ok, bravo Allora, allora, allora Vieni, vieni, vieni Mi fai il tour? Sì, ovviamente Ovviamente Qui abbiamo la nostra bella piscina Al momento è vuota Però qui è dove ti puoi fare l'idromassaggio E per non sprecare l'acqua Certo, certo, ok Beh, poi dai dal momento ne hai un sacco di acqua Quindi se è caldo buttati in mare Va bene Tutti i divanetti non me li presenti, no? Niente, no? Sono già scontati No, ormai li ho visti da solo Grazie Guardiamo tutto quanto Sei terribile a fare le guide Lo so Ok Qui ci sono tutte le stanze dello yacht Qua è anche il bagno privato Allora, questa è una bellissima camera da letto Se ti piace il bagno privato Mi sembra comoda Certo che mi piace È importante il bagno privato E comunque non lo so Non so bene come presentartelo Sinceramente è talmente grande Che mi sto perdendo No, no, sei una pessima guida Non mi ricordo neanche io Cosa tutto c'è in questo yacht Un po' di cose interative Mi avrebbero seguito e amato tutti Vai Allora Qui come puoi vedere Abbiamo delle sculturine Di un animale molto particolare Che esisteva nella preistoria Vuole sapere il nome? Un maiotasso No Qui abbiamo dei bellissimi vasi Per arredare e migliorare la situazione E come puoi vedere Qua c'è un'altra camera da letto Che è a faccia all'ufficio Ok Perché è molto interessante Se vedi Qua c'è una porta Che non è neanche una porta Sì, certo E c'è camera da letto più ufficio Questa è la mia stanza È un'ottima stanza Dopodiché Se noi avanziamo Dei divanetti Ovviamente Se ti vuoi sedere Se si stanca Quando ti muovi per lo yacht Lo stai facendo troppo lunga E qui c'è un'altra camera da letto Cioè potremmo ospitare Non solo noi due Lo so Ma tutti i consolini Perché davvero è talmente pieno di stanze Che secondo me qui nello yacht Ci stiamo tutti Possiamo fare la festa Nello yacht Con i consolini Dopodiché Da queste parti Ci dovrebbe essere il bar Se ricordo bene E infatti Sì, 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 sì Mi ha comprato uno yacht E non sa nemmeno come è fatto Questa è la parte più bella Guarda qua Ma chi fa il barista? Bar Super Fashion Vlog Bellissimo Che stai dicendo? Non lo so Il barista lo chiamiamo Ferri di solito Ah, ok Che bella la giornata qui nello yacht Finalmente ci siamo potuti rilassare Una giornata tutta per noi Lo so Ferri È davvero bellissima la giornata Però Ferri Io non vorrei dire Ma secondo me c'è un problema Che problema? Vedi questi bruti cefi Che corrono tantissimo Ma che vogliono? Mi è sembrato di sentire qualcosa Ma secondo te Che stanno confabulando? Non so Ferri Sento anche io delle voci Stef, chi sono? Sto inizendo a preoccuparmi Se come io mi preoccupo Secondo me sono dei ladri Spara! Come sono dei ladri? Come sono dei ladri? Oh mio Dio Corri, corri, corri Corri, corri Corri, corri Stef, stai tranquillo Ci sono io Ok, vai, prendili Io mi copro nella mia piscina Li uccido Non provate a rubarmi il mio yacht Guardate L'unica cosa bella che ho nella vita Non ci provate Ferri attenta, Ferri attenta, Ferri attenta Gira, 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 gira Io mi nascondo qua Ferri nasconditi, Ferri nasconditi Dove ti sei nascondi? Delle poltrone? Ma non si dovrebbero usare per questo le poltrone Lo so Ferri Ma siamo a meglio estremis Non si vogliono accostare Ferri, Ferri, Ferri Spara, spara, spara Spara Aspetta, spara Uno l'ho battuto Uno l'ho battuto Luca Abbattiamo l'altro È rimasto solo l'altro Perché è tutto strano Tornerò, ve lo prometto Guardalo Sta scappando Ferri Cerca di scappare Guarda che disgraziato Pirata maledetto Non provare mai più a tornare Non provare mai più a tornare O ti uccideremo di nuovo Hai capito? Ah, meno male che ce l'abbiamo fatta Guarda, Ferri Sono pieno di buchi Mi hanno sparato tantissimo Ma chi lo dici? Però per fortuna sono scappati E il nostro problema si è andato Ma scusa I nostri super radar Non hanno segnalato nulla No, Ferri Non capisco perché non li hanno visti Però ci possiamo di nuovo Gadere la vita tranquilla E bella del nostro yacht Assolutamente sì Aspetta, Ferri Un altro po' Stef Un altro po' Sento le loro voci Sono tornati, Ferri Oh mio Dio Guarda con cosa stanno arrivando Li vedi? Venite fuori Che accidenti è quella cosa Ferri, abbassati, abbassati Eccoli là Mamma mia Sono al piano superiore Ci serve un piano Ci serve un piano, Ferri C'è un odore di pesce tremendo Gas Siamo tantissimo disperati Cos'è quella? Una granata Gas Morite Ricatemi questo Morite con il mio gas Tutto il gas che mi manderete Sarà comunque meglio Dall'odore di pesce che c'è qui Forse è per quello che ci vogliono rubare lo yacht Vedi? È per quello Dovremmo regalargli qualcosa che fa un buon odore Tiro un raggio di segnalazione Guarda, così magari qualcuno arriva Così magari la guardia costiera Aiutati segnalati Il peschereccio Brava, Ferri E li sto bombardando Guarda Sta scappando, sta scappando È in fuga, è in fuga Ho fatto fuori le mie forze speciali Non ci credo Continuo a sparare il peschereccio Altrimenti quello lì tornerò un'altra volta Ferri Tornerò lo stesso Distruttilo Tornerò lo stesso Ferri, dobbiamo sistemare i motori Ci hanno fatto gravissimi danni Un sacco di danni Sai come si aggiustano i motori? Sì Vai Lo sapevo, Ferri I calci aggiustano sempre tutti Come quando il telecomando della tv non ti funziona E tu lo sbatti in terra e poi ti funziona È la stessa cosa No, no, secondo me no, Ferri Sì, sì Non mi sembra per nulla una buona idea Secondo me adesso è tutto a posto Se vai nella sala del capitano Riusciamo a fare funzionare il nostro yacht Come sentire qualcosa? Uno Sento qualcosa, Ferri Come senti qualcosa? Cosa vuol dire? Non è possibile che ci stanno riprovando Ferri, Ferri, Ferri Sì, oddio sono qui C'è un peccato Via, via, via Molotov 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 Immergiti, immergiti Prova a sparare sott'acqua Io non so come si può colpire un dirigente Cioè, cos'è un sottomarino? Sottomarino Dirigenti li volano Sì, lo so, ma sono confuso perché Non dargli idee che poi ne arrivano Ho paura Ho paura Gli ho visti, gli ho visti Sono tornati su Ferri, sono tornati su Prove Dall'altra parte Ma come l'ho fatto? Non so come arrivarci, Ferri Come non sai come arrivarci È troppo grande lo yacht Corri Ferri, sono entrati? Aiuto, secondo me sono entrati Ferri, ho paura Secondo me sono entrati Ok, allora vedo un sottomarino Ferri, Ferri, Ferri Mi sa che sono dentro Mi sa che sono dentro Allora, nasconditi Nasconditi Ascoltami Ok Allora, prendi un fucile Questo qui della Prima Guerra Mondiale è molto bello Te lo consiglio Quale della Prima Guerra Mondiale? Guarda questo, vedi A me piace questo, grazie Ok, ok Va bene, Ferri Li faccio fuori, non appena arrivano Seguimi Seguimi, seguimi, seguimi Ok Ok, ok Allora, via libera Via libera Andiamo, 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 andiamo Dove sono? Sento solo le loro voci Allora, qua davanti a noi Ok Tu ogni tanto controlla le spalle Ok, controllo Ho un'idea Facciamo gli esplodori sottomarini Così non possono scappare, Ferri Ok, ok È una buona idea Allora, questo qua dovrebbe Se non possono scappare Ci riprendiamo i nostri gioielli Esatto Addio ad uno Che cosa è stata questa esplosione? Non lo so Ci stanno facendo esplodere i sottomarini Salta, salta Credo di sapere dove sono, Ferri Ok, ti seguo Vieni, vieni, vieni Ti ricordi la statua della Pantera? Sì Ci darà il coraggio di battere i pirati Assolutamente sì Li visti? Attenta a Ferri, sono sopra di noi E io ho visti Te l'ho detto che erano sopra Nasconditi 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 Sono al bar, Espy Credo Guardalo, eccolo Eccolo Spara, spara, spara 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 Ti straziati, ridateci i nostri gioielli Luca, sono lì sotto Sono lì sotto Espy stanno salendo Vai, salgo Corri Mi ammazzo Corri Non mi avete mai Ma dove è finito quell'altro? Ce l'ho fatto Tutti non scappano in acqua Ma come ha fatto? Si fanno esplodere Vieni dentro, vieni dentro Scappare Ma ti sembra dove li hanno trovati quei jet? Non lo so Aiuta Sono più ricchi di noi alla fine Cosa? Che sono più ricchi di noi E infatti che cosa vogliono dal nostro io Non lo so, guarda Nascondiamoci qua Mani in alto Mani in alto Togli la pistola E anche la maschera E anche la maschera Ma è la mia faccia No, sei un pinguino Non puoi essere la tua faccia Non puoi essere un pinguino Sì Alza le mani Dov'è il tuo collega? Dov'è? Dicelo Aspetta che lo cerchiamo Lo cerchiamo Eccolo, eccolo Stai fermo Mamma mia che capelli che ha Ti fa concorrenza Sono bellissimi tesoro Le vuoi anche tu così Pirata a Luca, stai fermo La smette, altrimenti la sparo Non si faccia di stonare da quello lì Stef, mi sta infortunando Continua a mirarlo Non ti preoccupare Ne usciremo insieme Diteci prima Una cosa è molto importante Perché stavate cercando di rubare Nel suo yacht? Perché ci avete rovinato la giornata Vi assicuro che sono motivazioni Molto importanti Ok Ad esempio? L'abbiamo fatto Per la pizza La pizza volevamo Cosa vuol dire? Allora La pizza volevamo Ok, volevate una pizza E perché non siete andati in pizzeria? Perché non abbiamo i soldi Per la pizza Del jet La pizza Non per dire però Mi sembra che costi leggermente di mera Il peschereccio E tutto quello che avete usato Potevate comprarvi un milione di pizze Non una Ma quelli sono dello zio di Espi Non sono Ma potevate venderli Dato che li avete distrutti Esatto Quindi Che senso ha tutto ciò? Che senso ha? Perè Perè Dimmi Vi concediamo una pizza Che dici? Dai Sono talmente poveracci Che gliela offriamo Dai Venite con noi Ok, va bene Vi offriamo noi la pizza Abbiamo deciso Abbiamo Una stanza apposita Per la pizza Allora Allora Io vi volevo portare In una pizzeria Ma Il vostro dannato caccia Il vostro dannato caccia Sta bloccando Il nostro dicottero Scusatemi L'ho parcheggiato un po' male L'ho parcheggiato In seconda fila Potete rimuoverlo Allora Io sento un istinto Dentro di me Che mi dice Di dare almeno un pugno A quest'essere Che ci ha rovinato Le vacanze Allora andiamo Dai L'altro non ci serve Andiamo Arrivederci Bye bye Espi Si ricordi di portare Una pizza Al pirata Luca Ok In ogni caso Vi portiamo In un ristorante Super chic Anzi La portiamo Dato che è da solo Nel ristorante Pizzeria Più chic Che si è mai vista Disgraziati Che il mio muletto Non voli Ma che muletto Ha è fantastico Guarda da qua Dietro di noi Che vola Col muletto Disgraziati Questo è per avermi lasciato là E' arrivato anche Quello col muletto No Per favore Smettila Sto bene Sto bene Sto bene Sono abituata Alle esplosioni Sono abituata Eccomi qua Allora Siamo passati Dalla pizza gigante Alla pizza ridotta Solo per colpa Del suo amico Io te lo dico Continua Ci ha fatto esplodere Anche l'elicottero Hai visto Le patatine Vi piacciono Le patatine nella pizza Vi piacciono Sì Sono buonissime Ok perfetto Niente patatine No I tavolini per mangiare la pizza Vi piacciono Sì Sì Ecco Mangiamo i piedi Ok No Perché Allora dai Iniziate a ordinare Una bella pizza Da qua Dovete dare qualche pugno E arriva un cameriere Ordinate la pizza Che preferite E mangiamo No No Espy 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 Signor pompiere Espy Espy Le lascia in pace Allora C'è una sola cosa da fare A sto punto Fere Cosa Vieni qua Ci dobbiamo insegnare Come si vive in questo mondo Vieni La mangio anche senza patatine No no Ormai niente pizza Te la sei giocata Va benissimo Giusto un manganello per te Non posso picchiare solo io Espy Non ti permette Io mi dissocio Non mi interessano queste risse Grazie Io volevo solo mangiare qui Scappiamo insieme Ferenichi No no Andiamo via Andiamo via Non ci provare Non ci provare Mi dispiace Ma lo zio No Mi ruba Il vecchio Il vecchio pomeriggio dell'auto Bravo il tipo Picchialo Ci penso anche io Andiamo pirata Espy Andiamo Via Andiamo Andiamo No E dai scusa Suo zio a veicoli Bellissimi E proprio assalto Capito Un vero e proprio evento All'interno di GTA A me è piaciuto tanto Esattamente Quindi Commenti e sondaggio Fateci sapere se ci vorreste vedere Altre volte divisi in due team Ovviamente faremo anche di video Tutti e quattro insieme Però secondo me Alcune volte ci potrebbe stare Essere divisi in due team Quindi fateci sapere Se questo video vi è piaciuto Particolarmente Così magari Ne organizziamo qualche altro Ovviamente Ricordatevi passare dal canale Di Espy Ok E ci fermiamo così Beh ragazzi Se vi è lasciato Lasciate un like E se è la prima volta che vi ho detto Il nostro video Potete considerare il link Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao